Buonasera a tutti ragazzi, si gela e domenica sera siamo io, lei, inseparabile compagna di viaggi, dato che almeno lei non mi trude mai. Che dire, mi piacerebbe ringraziarvi a Tudanuno per tutte le volte che mi sopportate e sopportate, soprattutto in questo periodo. La felicità è una meta veramente ambita, è difficile, è veramente difficile da arrivarci, però io mi auguro di essere sereno ed è la cosa che auguro a tutti voi, tutti, sia a quelli che mi vogliono bene che a quelli che mi vogliono male, sia le brave persone sia gli infami. Perché credo che in questo mondo non bisogna essere cattivi e augurare qualcosa a qualcuno, ma siate pur sicuri che la vita è una ruota, gira, oggi a me e domani a te. Ragazzi, buona tirata, un bacio sempre in forma contro tutto e contro tutti, ma fate valere sempre le vostre idee. Ciao!